Tre consigli per scegliere la wedding planner giusta. Ciao, sono Barbara Damora, fondatrice di Matrimoni Inedito. L'aiuto, chiaro e semplice, è per gli sposi che vogliono organizzare un matrimonio innovativo. Affidarsi a una wedding planner è un compito molto difficile, anche perché nessuno conosce il ruolo che ricopre all'interno dell'organizzazione. Per questo voglio darti tre consigli per scegliere quella che fa il caso tuo. Primo consiglio, conosci in cosa è specializzata, non tutte fanno tutto e ognuna ha una metodologia di lavoro. Secondo consiglio, non basarti solo sulle foto dei social, ma verifica le sue recensioni e le sue referenze anche dai fornitori, non soltanto da altri sposi. Terzo consiglio, è fondamentale entrare in empatia con la wedding planner. Dovrete stare a stretto contatto per un anno intero, fino al giorno del matrimonio. È un aspetto di non poco conto perché capirsi è fondamentale per la perfetta riuscita del matrimonio. Ciao e alla prossima!